Esattamente, già a settembre abbiamo presentato questa mozione come consiglieri di opposizione in cui chiedevamo che il Comune di Fano aderisse alla raccolta firme promossa dal Lanci nazionale per la reintroduzione di quella che era l'educazione civica nelle scuole, quindi tutte le scuole di ordine grado come materia a sé stante, quindi proprio come una materia perché in questo momento ci sono un paio di ore di educazione civica ma che più che altro sono fidate al buon senso degli insegnanti se vogliono o meno portare avanti questa iniziativa. È una raccolta firme che riteniamo molto importante perché abbiamo bisogno tutti, soprattutto le amministrazioni, che ritorni un po' quella che è l'educazione civica, anche la conoscenza da parte dei ragazzi di quella che è la Costituzione e quindi anche il bene comune. Il nostro invito è stato proprio quello dell'amministrazione che ha votato comunque all'unanimità la nostra mozione, quindi è stata accolta già dall'inizio di ottobre, ha accolto proprio il nostro invito ad aderire alla raccolta firme e quindi è già possibile andare a firmare. Abbiamo chiesto anche che venisse comunque promossa questa iniziativa, quindi che venisse data informazione alla cittadinanza. Purtroppo ancora non è stato fatto, quindi quello che vorremmo fare è proprio invitare i cittadini a recarsi in comune all'ufficio relazioni con il pubblico in piazza per andare a firmare perché è necessario raccogliere 50.000 firme entro il prossimo 4 di gennaio per poter presentare poi la proposta di legge in Parlamento.